Il Ferragosto tradizionalmente è l'apice della stagione balneare, quindi è il momento in cui gli alberghi sono pieni. Quest'anno, a differenza di anno scorso, c'erano camere disponibili, camere libere, sia a Fano che a Pesaro, a Gabice Mare, quindi anche da questi pochissimi giorni ferragostani si capisce che è una stagione andata male per il momento. Giugno è stato un mese pessimo, forse anche per le condizioni meteo, l'alluvione in Emilia-Romagna, luglio un calo vertiginoso rispetto ai dati del 2022, la prima settimana d'agosto bruttissima, forse una delle più brutte che io ricordi almeno degli ultimi 15 anni, per fortuna ci sono stati quei 3-4 giorni di Ferragosto, però i 3-4 giorni di Ferragosto non fanno una stagione. Si conferma la difficoltà per il nostro territorio, ma direi per l'intero paese, perché poi analizziamo i dati, Puglia è in regresso, il Veneto, salvo un paio di località, perde il 20%, l'Emilia-Romagna forse anche di più, quindi la Sardegna, la Puglia, sono dati preoccupanti del sistema paese che non regge, non regge a causa dei costi che gli italiani non possono più sopportare, non si capisce per quale motivo il costo del carburante debba essere così alto, la risposta del Ministro Urso è stata quella di obbligare i benzinai che non c'entrano nulla nella formulazione del prezzo, obbligarli a mettere su un cartello inutile, quando invece in Italia ci sono 10 aziende che raffinano il petrolio, sono 10, queste non sono state nemmeno convocate e sono loro che fanno il prezzo, quindi c'è una disattenzione da parte governativa su una speculazione fortissima che ha messo in crisi gli italiani insieme all'aumento dei costi bancari, anche qui la BCE per abbassare l'inflazione, per annullare l'inflazione, sta annullando l'economia, i mutui per l'acquisto della macchina o i mutui per l'acquisto della casa sono quasi triplicati, quindi è chiaro che in questa situazione le famiglie hanno poca disponibilità per fare vacanze, hanno poca disponibilità per andare nel ristorante. Ed è un contesto generalizzato che svilisce anche i vostri impegni, Confcommercio da anni ha questo grosso impegno nella promozione territoriale, parlo dell'itinerario della bellezza ma posso parlare anche dell'impegno che ha Pesaro verso la promozione di Capitale della Cultura 2024, suona come una beffa avere questo 2023 così sotto tono? Sì, noi abbiamo fatto come gli anni precedenti, d'altra parte, tante iniziative per promuovere il nostro territorio, le aspettative in primavera erano ottime, c'erano prenotazioni, c'erano richieste di informazioni, quando si andava nelle fiere c'era una grande tensione nei confronti del nostro territorio e delle marche. Poi è successa la disattenzione governativa nei confronti dell'aumento spropositato dei costi, le famiglie non possono sopportare costi del genere e fanno vacanze brevi, scelgono le mete meno care, l'esplosione dell'Albania di cui tutti parlano deriva proprio da questo, quindi una situazione di grave difficoltà. Noi continuiamo la promozione anche nei prossimi giorni con tante iniziative fieristiche, da Torino a Colmare in Francia, a Parigi, Rimini, Pestum, però ovviamente se non si rimettono in tasca agli italiani soldi è difficile.